Sono molte le critiche per le dichiarazioni del Presidente della Giunta Francesco Roberti e del Commissario della Sanità Marco Bonamico che invitano i giornalisti a non accentuare le notizie circa le criticità del sistema sanitario molisano. I giornalisti sono stati invitati ad essere accorti e soprattutto più oscillenti circa le notizie che trattano delle tante criticità del sistema sanitario in Molise, il quale, come ampiamente noto, ha maturato un debito gigantesco e che taglia continuamente servizi, venendo meno a gran parte delle tutele per la salute dei molisani. Gli inviti sono venuti dal Presidente della Giunta regionale Francesco Roberti e dal Commissario ad Acta della Sanità Marco Bonamico, che hanno dimostrato di essere più attenti a dare una visione falsata che non ad attrarre medici ed operatori portandoli in strutture adeguate ed efficienti. Posizioni che non si vedevano da tanto tempo e che mortificano e condannano i giornalisti molisani, rei soltanto di raccontare la verità. La vicenda ha spinto immediatamente il Consigliere regionale Massimo Romano a segnalare le posizioni del Presidente Roberti e del Commissario Bonamico. Arbitrarie e gravissime perché il Presidente della Regione e il Commissario ad Acta devono fare i loro mestieri per i quali sono pagati dei cittadini. I giornalisti devono fare il loro. E se il Presidente della Regione pensa di poter interferire con il lavoro degli organi di informazione, secondo me ha sbagliato indirizzo perché i giornalisti in qualsiasi democrazia hanno il dovere, oltre che il diritto, di riportare le notizie e di riportarle come ritengono che vadano riportate. Il Presidente della Regione, viceversa, e ne tampoco il Commissario ad Acta, non hanno il diritto di dire ai giornalisti come devono fare il loro dovere e come devono fare il loro mestiere. Quindi da questo punto di vista si tratta di affermazioni gravissime, secondo me oltre che sul piano istituzionale, proprio sul piano del messaggio che mandano, perché un invito al silenzio, come dire, è proprio di contesti anche geografici e sociali che mi auguro restino ben distanti dal nostro Molise. Dopodiché parliamo di sanità. Non mi pare che, come dire, occorrano, occorra scomodare servizi giornalistici di inchiesta per capire qual è la percezione degli utenti del servizio sanitario, di come è messo il servizio sanitario regionale. Attribuire la responsabilità alla stampa e non invece alle scelte sbagliate della politica e della struttura commissariale di questi anni mi sembra un fatto vigliacco e quindi ho ritenuto di dover attenzionare questo grave episodio istituzionale perché se c'è qualcuno che pensa di poter avviare la legislatura silenziando gli organi di stampa e gli organi di controllo sociale e democratico, secondo me, non hanno capito quello che li aspetta e quindi rivendico, da un lato esprimo solidarietà ai giornalisti e invito loro a fare il loro mestiere senza subire ingerenze, dall'altro io eserciterò il mio mandato istituzionale rappresentando all'opinione pubblica e ai cittadini tutto quello che a mio avviso non va e lo farò nell'interesse pubblico e nell'esercizio del mio mandato e dovere istituzionale.